mi si sente, brava mi si sente. Allora buonasera a tutti, grazie a Massimo, grazie a tutti voi davvero a tutte le associazioni per aver voluto centrare questi temi in un'altra campagna elettorale, come sempre siete capaci di fare, siete capaci ogni volta di costringere la politica a parlare di questioni che la politica vorrebbe espungere dalle sue priorità, non tutta la politica per la verità, c'è anche una politica che si rende conto di quanto invece sia importante parlare del tema della famiglia, della sacralità della vita, delle proprie radici e delle proprie identità, dico di più, c'è una politica che sa che su questi temi in realtà si fa la differenza dello scontro in atto in questo tempo, perché vedete anche oggi come è accaduto a Verona, come è accaduto e come accadrà sempre, quando noi organizziamo eventi di questo tipo, per dire cose banali, che bisogna aiutare la famiglia, che bisogna incentivare la maternità, che bisogna aiutare le donne a non dover scegliere nel terzo millennio tra avere un figlio e poter avere un posto di lavoro, che la vita andrebbe favorita e difesa, che la libertà educativa è un valore e non un problema, per dire cose banali, ogni volta che noi diciamo queste cose banali, veniamo tacciati e accusati di qualunque nefandezza, si dice che siamo scurantisti, impresentabili, vergognosi, aiuto la famiglia, ma siete matti, aiuto l'identità religiosa, ma siete matti, aiuto la libertà educativa, ma siete matti, perché? Vi siete chiesti perché, e non me ne vogliate se provo a fare tre minuti un ragionamento che potrebbe risultare alla fine noioso, ma vi siete chiesti perché in un tempo come questo la famiglia è un nemico, la famiglia è un nemico perché è il fulcro della nostra identità, la famiglia è un nemico, la famiglia è un nemico perché per il pensiero unico tutto quello che ci definisce è un nemico, è un nemico la patria, l'identità nazionale, è un nemico l'identità religiosa, è un nemico l'identità di genere, è un nemico l'identità familiare, tutto quello che ci definisce è un nemico ed è dimostrabile, è dimostrabile l'immigrazione di massa, noi sentiamo parlare ogni giorno di quanto sia importante accogliere gli immigrati che arrivano con i barconi dall'Africa, qualcuno prova a dire che insomma governare l'immigrazione è una cosa più seria che non governarla, ma vabbè, in Venezuela ci sono due milioni di persone che stanno morendo di fame, vi siete chiesti perché nessuno di quelli che invocano l'accoglienza a 360 gradi ha mai parlato dei venezuelani, ha chiesto di accogliere e aiutare due milioni di venezuelani che stanno morendo? Ve lo siete chiesto, ve lo di origine italiana? Perché i venezuelani sono cristiani, perché i venezuelani sono compatibili con la nostra cultura, perché far venire venezuelani in Italia non è funzionale al disegno del grande burattinaio che è immettere qui centinaia di migliaia di islamici per mettere in discussione l'identità della nostra società, questo è il tema dell'immigrazione irregolare, questo è il tema e non è un caso, ci dicono che dobbiamo rimuovere i crocifissi dalle nostre aule, che noi siamo uno Stato laico e verrebbe da ricordare a questi signori che forse è proprio quel crocifisso che ci ha insegnato cosa sia la laicità dello Stato, ma questo è un altro tema, ci dicono che noi dobbiamo togliere il crocifisso perché siamo uno Stato laico e bisogna avere rispetto di chi crede in altre religioni, ce lo dice quella stessa Europa nella quale poi ci sono interi quartieri all'interno dei quali vige la sharia, la legge islamica, perché? Perché la laicità dello Stato viene utilizzata sistematicamente come una clava solo contro l'identità cristiana, questo è, dice quel genio del ministro Fioramonti per il ciclo mai avrei creduto che avrei rimpianto Toninelli, dice quel genio del ministro Fioramonti togliamo il crocifisso e al posto del crocifisso ci mettiamo una cartina e il mappamondo con cenni di costituzione, allora io dico una cosa, la cartina con i cenni di costituzione glieli mandate a Di Maio così impara dove sta Matera e anche cosa dice l'articolo 1 della costituzione e cioè che la sovranità appartiene al popolo e noi ci teniamo il crocifisso e noi ci teniamo il crocifisso che è la nostra cartina geografica perché è la mappa della nostra identità che si creda in Dio oppure no, in quel simbolo sono raccolti i valori che hanno fondato la nostra civiltà e se io rinuncio a quel simbolo e a quei valori non saprò più chi sono, guardate è giusto in uno stato laico tenere i crocifissi appesi nelle aule delle nostre scuole, è giusto in uno stato laico, non si tratta di imporre a qualcuno il proprio Dio, si tratta di raccontare chi si è perché io lo voglio dire una volta per tutto, non credo alla cultura della tolleranza, tu tolleri qualcosa che fondamentalmente non vuoi in mezzo ai piedi, io credo nella cultura del rispetto, ma il rispetto viene dalla parola respicere, guardare in profondità, non posso rispettare l'altro se non lo conosco, non posso farmi rispettare se non so chi sono, questo è il tema, allora certo per i cristiani quel simbolo è un simbolo religioso ma in ogni caso per tutti gli altri, per quelli che dovessero credere in un altro Dio e in ogni caso il simbolo di un uomo che è stato vendito, venduto, tradito e ucciso per quello in cui credeva, come fa a offendervi, come fa a offendervi? L'identità di genere è un nemico, l'identità di genere è un nemico, che sei matto? Madre, padre, uomo, donna, siete completamente pazzi? Genitore uno, genitore due, X, adesso avete visto c'è una compagnia aerea nella quale quando salite non vi diranno più ladies and gentlemen, vi diranno everybody, giuro notizia di ieri, per non dover dire ladies and gentlemen, everybody, no io non sono everybody, io non sono everybody, vedete alla fine di tutto questo ragionamento sapete cosa accadrà? Che l'obiettivo, non ci arriveranno, ma l'obiettivo qual è? Tu non devi più avere un'identità, non devi essere definibile, tu devi essere un numero, genitore uno, genitore due, cittadino X, genere X, non devi avere radici, fermi, non devi avere radici, perché quando non avrai più un'identità e non avrai più radici, non avrai più neanche la forza per difendere i tuoi diritti, allora sì sarai solamente un numero in balia della grande speculazione del grande capitale, che vogliono renderci tutti uguali per poter vendere a tutti un unico grande prodotto da consumare, ma noi non siamo dei numeri, noi siamo persone e difenderemo il fatto di essere persone, io sono Giorgia Meloni, sono una madre, sono una donna, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete, non mi farete diventare un numero, io voglio difendere quello che mi definisce, voglio difendere Dio, voglio difendere la patria, voglio difendere la famiglia, lo farò e possono dire quello che vogliono di me, non mi interessa, non farò il gioco della grande speculazione e allora è importante difendere la famiglia, è importante difendere la famiglia, è importante difendere la natalità, è importante difendere la libertà della famiglia delle persone, ormai nessuno ne parla più e tutti ne parlano in campagna elettorale, avete visto che la famiglia è ridiventata, il grande tema del quale si discute, Conte, Conte mi dice, Giuseppi, perché erano due, perché uno non la poteva fare, uno solo, due governi, il lunedì con Salvini, il martedì con la Boldrini, per cui erano due, questa, come dice il collega Baldelli. Tutti adesso parlano di famiglia, dice Conte, asili nido gratuiti. Guardate, io veramente, a me cadono le braccia, lo sapete quante volte l'abbiamo portati gli asili nido gratuiti in aula nell'ultimo anno? Almeno tre volte, ce l'hanno bocciati. Dove stava Conte? Era la sua maggioranza che ce li bocciava. Vogliamo parlare del reddito di infanzia? Perché io non ho avuto paura a dirlo, io ho sempre detto, il reddito di cittadinanza? Preferisco il reddito di infanzia. Uno Stato giusto non mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto si occupa di fare assistenzialismo verso chi non può lavorare, quindi minori, disabili, anziani e per gli altri è il lavoro che deve garantire, non la paghetta. Ma quando li abbiamo portati questi provvedimenti? Ebbè nessuno c'è stato a sentire. Abbiamo proposto che i sei miliardi di euro che avanzavano, pensate un po', dagli assegni familiari che venissero spesi immediatamente a favore delle famiglie numerose e anche per aiutare a mettere al mondo dei figli i liberi professionisti, perché un figlio è un figlio, non è un figlio che ha meno diritti se è figlio di un libero professionista rispetto che se è figlio di un lavoratore dipendente. È un figlio, costa lo stesso. Abbiamo fatto decine di queste proposte, abbiamo chiesto che l'Europa avesse un programma dedicato alla natalità, perché l'Europa sta scomparendo signori, abbiamo capito che con i dati demografici dell'Europa noi tra 5, 6, 7, 8 generazioni saremo un continente islamizzato. Io non ho paura a dirlo, non ci voglio diventare, non ce l'ho con nessuno, voglio difendere la mia identità, penso che bisogna aiutare gli europei a fare dei figli e gli islamici lo sanno bene, adesso tutti scoprono che c'è il problema di Erdogan, ma quando noi denunciavamo il problema di Erdogan, quando denunciavamo che Erdogan andava in giro dicendo agli islamici europei fate 5 figli ciascuno e conquisteremo l'Europa così, tutti zitti, nessuno diceva una parola quando noi ponevamo questo problema e rivendico di aver sempre combattuto contro l'ingresso della Turchia in Europa, proprio per queste ragioni. Ma perché l'Europa non può avere un programma per parlare di queste cose? Perché non può avere un programma come ce l'ha per la mobilità, come ce l'ha per la ricerca scientifica? Perché non può avere un programma per la natalità? Perché ci sono nazioni che hanno saputo lavorare bene, penso proprio ai paesi del gruppo di Visegra, è stata con noi a Katalin Novak quando c'è stato il congresso mondiale della famiglia, è venuta a Treju col presidente Orbán e loro per esempio fanno in Ungheria un lavoro straordinario, dovrebbe a mio avviso farlo tutta l'Europa. Sono questi i temi sui quali noi dobbiamo avere il coraggio di investire, sulla famiglia, sull'idea della vita come qualcosa di sacro perché anche qui, e chiudo, vado alla conclusione. Ieri è arrivata al Gaslini di Genova da Fida. Una bambina malata, gravemente malata, che rischiava di fare la stessa fine di altri due bambini prima di lei, che si chiamano Charlie Gard e Alfie Evans, bambini nati malati rispetto ai quali la giustizia britannica contro il parere delle famiglie decreta l'inutilità. Sul caso di Alfie Evans, la giustizia inglese, che voleva costringere a staccare le macchine che tenevano in vita questo bambino i propri genitori, disse proprio che la vita di Alfie era una vita futile, inutile. Allora vedete, se passa il concetto che la vita non è più qualcosa di sacro, in ragione del fatto che, come ho detto e ripeto, ciascuno di noi che viene al mondo ha un codice genetico unico e irripetibile, non ce ne sarà mai un altro uguale. Questo ha del sacro, piaccia o no, ha del sacro. Se noi stabiliamo il principio che una vita è utile o inutile, sulla base di criteri tutti da valutare, qual è il criterio, quanto produco, quanto consumo, qual è, se posso comprare i prodotti che mi vendete, se posso lavorare abbastanza, qual è il principio? Qual è una vita dignitosa? La vita è dignitosa in sé, è dignitosa in quanto tale. Per questo facemmo la battaglia per dare la cittadinanza italiana a Alfie Evans perché i suoi genitori potessero portarlo all'ospedale pediatrico Bambin Gesù, tenerlo in vita non riuscimmo. Siamo riusciti con Tafida e oggi chiediamo al governo italiano che Tafida abbia la cittadinanza italiana perché i propri genitori possano continuare a curarla qui per tutto il tempo che riterranno necessario. Per questo ho scritto una lettera ai ministri competenti, al ministro dell'interno, al ministro degli esseri, spero che mi siano a sentire e credo davvero, guardate, che lo scontro in atto sia questo. Io rifiuto una società nella quale mi si dice che bisogna tassare le merendine perché fanno male e poi si vuole legalizzare la droga. Rifiuto una società nella quale il desiderio di una coppia omosessuale ad avere un figlio viene prima del diritto di quel bambino ad avere un padre e una madre semplicemente perché la coppia di omosessuali vota e il bambino no, perché uno stato giusto si occupa del più debole, non del più forte. Si occupa di quello che non ha voce per difendere i propri diritti, non di quello che ce l'ha. Rifiuto una società nella quale siano i giudici a decidere se puoi o non puoi curare il tuo figlio, una società nella quale i capricci diventano diritti, nella quale non esiste più la responsabilità, ci avete fatto caso, esistono solo diritti, tutto è un diritto. Poi che cosa devi fare per guadagnarti quello che hai? No, di questo non parla più nessuno. Io rifiuto una società nella quale un bambino non nato è un rifiuto speciale. Abbiamo depositato una mozione a Roma Capitale perché ci sia un cimitero, perché non voglio che un bambino sia un rifiuto speciale, che una vita sia un rifiuto speciale, mai. Sono retrograda, sono oscurantista, sono spaventosa, non lo so, sono una persona che ha le idee chiare su cosa la politica debba difendere, sono una persona che ha le idee chiare su quale debba essere il futuro della nostra nazione, della nostra civiltà, di questo continente e del mondo intero. E non mi vergogno, diceva Elliot, in un mondo di fuggitivi chi non scappa rischia di essere considerato il traditore. A me non fa paura, io so per che cosa voglio combattere e voglio farlo con voi perché anche voi lo sapete molto bene. Grazie.